Mi fa piacere essere qua perché noi come informatici e ingegneri informatici abbiamo sempre guardato all'estero, abbiamo guardato a Google, abbiamo guardato a Microsoft e tutto il resto, ma ci siamo sempre resi conto che c'è bisogno di informatica qui, sia per le aziende che non sono informatiche, per le aziende biomedicali, per le aziende della meccanica, della ceramica e tutto il resto, ma anche per tutte quelle piccole e grandi aziende che stanno crescendo proprio nel mondo dell'IT. È un mondo nuovo che non richiede troppi investimenti, ma che richiede molto entusiasmo e vediamo tanti giovani che stanno facendo pian piano in un momento così di crisi anche nascere delle nuove iniziative di spin-off e di aziende di questo tipo. Quindi al di là della nostra disponibilità, sia come ingegneria, come ateneo in generale, ma anche come centro di ricerca, come ha detto l'assessore, noi abbiamo a Modena il tecnopolo, uno dei tecnopoli al laboratorio dell'ICT e che poi è collegato con gli altri laboratori della regione, quindi non siamo solo noi, ma siamo tutti della regione, siamo a disposizione per le aziende del territorio per dare una mano su tutto questo. Grazie.